ciao a tutti oggi è lunedì 24 luglio 2023 siamo qui in appiario una bella giornata c'è il sole non c'è caldissimo stamattina sono venuti le proprie due gocce per rinfrescare un po il tutto e adesso devo guardare questa questa famiglia qui che era rimasta orfana e avevo dato una cella reale che avevo preso una famiglia forte che aveva una regina buona però era una regina di tre anni e avevano fatto delle belle celle ero hanno tenuto una di rodata questo una ventina di giorni fa e poi quando ho fatto il blocco covata quando il vetro le altre regine ho visto che non aveva ancora covato e quindi me l'ho segnata di darci un'occhiata oggi e vediamo un po come messa si è cominciato a deporre e nel caso valutiamo come fare è una famiglia che era si era indebolita infatti vedete che è su quattro telaini l'avevo stretta molto questi qua sono telaini vuoti che avevo messo per tenere l'arnia piena perché io tendo sempre a tenere l'arnia se ho i telaini altrimenti metto dei cerri questo tipo telaini vecchi che devo sciogliere infatti sono tutti scuri dopo vedrò di cambiarli e di metterli nella sciratrice è importantissimo tenere sempre i cerri rinnovati nelle famiglie l'ideale sarebbe ogni tre anni 3-4 anni cambiarli tutti circa un 3 all'anno perché così si tolgono delle spore si tiene la famiglia con la cera pulita l'ideale sarebbe farsi i fogli cerri io ho acquistato i rulli e per farli partendo dalla cera eccetera con Dario e Stefano abbiamo fatto una prova che è andata male adesso quest'autunno ci riproviamo vediamo se riusciamo a fare qualche foglio cerio partendo dalla cera vediamo cosa salta fuori allora questo qua è un telaino praticamente non c'è niente un po' di miele vediamo un po' gli altri vediamo questo questa famiglia questo qua è il nucleo praticamente ormai non è più una famiglia perché l'ha già debole e poi non ci sono api piena di scorte volevo più che altro vedere che la regina deponga vediamo un po' allora ci vedono delle uova non so se riuscite a vederle nel fondo ci sono adesso cerchiamo la regina con calma vediamo se c'è qua non la vedo diamo un'occhiata nell'ultimo telaino eccola lì regina giovane di quest'anno della vispa visto che non c'è covata andiamo a fare un un gocciolato un api bio shawl gocciolato che ho già pronto lo facciamo insieme facciamo una cosa saggia se riusciamo proviamo abbiamo un attimo la regina facciamo bio shawl e liberiamo perché sempre meglio con le regine nuove evitare di di fare il trattamento con la regina perché si rischia che magari diva diva sopra l'ammazzano e adesso se riusciamo guardiamo dove è finita nessuno la vedo è andata giù ci ha fregato adesso andiamo con la nostra gabbiettina se no potremmo prenderla con calma ho anche le ho anche quella pinzetta apposta ma non ce l'ho dietro quella la pinza quella che uno stringe prende la regina però vabbè uno usa una gabbietta così allora quando avete presa non appoggiatela sopra sopra un tetto rovente perché se no muore teniamo magari ma un secondo andiamo a stringere la famiglia sui quattro telaini appoggiamo un attimo qua allora andiamo a metterci giù diaframmo così la stringiamo rimettiamo i telaini che abbiamo tolto prima poi diamo appena di fumo facciamo andare giù le api prepariamo l'api bioxal e gli facciamo il gocciolato allora qui c'ho diverse siringhe guardiamo questa qua va bene e questo qua l'api bioxal già pronto lo mettiamo qui lo mettiamo appena dentro intanto dobbiamo fare solo una cassetta sono una famiglia la mettiamo qua e la mettiamo qui un attimo poi allora diamo appena di fumo postiamo la regina lontano sempre sulle sui telaini che non prenda che non vada su superfici metalliche calde importantissimo non si rischia di ammazzarlo poi prendiamo la nostra siringa allora per chi non ha fatto io uso una siringa piccola 5 ml ogni intersizio quindi tiriamo su 5 ml e lo goccioliamo pian pianino così e approfittiamo nel cambio di regina per fare il trattamento visto che l'hanno cambiata nel senso che erano orfane abbiamo dato una cella adesso c'è la regina nuova e approfittiamo gli facciamo il trattamento di pulizia e poi rimettiamo la regina la liberiamo dopo aver fatto il trattamento così trattamento fatto questo lo rimettiamo dentro con l'altro andiamo piena di fumo una boffattina di fumo per togliere le api qua poi prendiamo la gabbietta allora potremmo metterla anche tra due telaini lasciarla aperta ma io di solito faccio così guardo che la regina sia girata nella parte opposta quando è girata sopra metto la gabbietta così un secondo poi adesso diamo un'occhiata cerco di girarvi la camera in modo che così aspettiamo un secondo che vada giù sta scendendo è già sceso non c'è già più la regina la regina non c'è già più è andata giù ci ha sfuggita comunque ci sono solo delle operaie sono comode anche le gabbiette per queste cose se dovete guardate sempre che non si ha dietro guardate un'occhiata bene la chiudete la riponete da una parte così la riutilizziamo la mettiamo qua e adesso andiamo a chiudere la famiglia poi dopo andiamo a segnarci il tutto che oggi abbiamo fatto lo salico gocciolato da PB Oxal a questa famiglia che aveva una regina nuova di quest'anno che stava deponendo adesso non essendoci ancora covato per colata non abbiamo visto se si è fecondata perfettamente però le uova la covata era abbastanza compatta e c'era un solo uovo per per parcella quindi speriamo che sia andato tutto bene nel frattempo ne abbiamo approfittato per per fare il trattamento perché in Appiario tutte le altre famiglie sono state ingabbiate quindi le ho ingabbiate le famiglie le ho ingabbiate tutte e poi ci sono i nuclei i nuclei che avevamo fatto sabato scorso che trovate il video con Dario quindi abbiamo visto questa famiglia abbiamo fatto la regina deponese e adesso la ricontrolleremo tra una quindicina di giorni per vedere che effettivamente la covata sia una covata femminile sia bella compatta e e basta nient'altro spero che questo video vi possa essere utile e se avete qualcosa da chiedere scrivete pure sotto nei commenti o scrivetevi al nostro gruppo Telegram che siamo lì per per discutere per trattare i vari argomenti di apicoltura e se avete qualche dubbio cerchiamo di darvi una mano vi saluto grazie e alla prossima ciao ciao